Terza corsa al Cilidiano di Aversa. Prova inserita nel palinsesto di Pica Nazionale. Alvia soggetti di tre anni sulla distanza del miglio. In Salchi ci sono i gentlemen. Sono in quindici. Prima fila per Elettra Alchi di Noe, Elios, Eva degli Ulivi e Simio Luis e Maragetti, Sterdi e Lecci. Seconda fila per Ermione Leone, Enjoy the Silence e Leboroggette, Nebolmaker, Elisir Erotik ed Esplosione. Terza fila per Eclisse Luis, Idlewise Dorr e Escobar León. Sbaglia Eclisse Luis nelle retrovie. Eva degli Ulivi, la più veloce nei confronti di Ister DLC e Elettra Alchi di Noe. Parte bene anche Esplosione e Dermione Leone che serra in terza posizione alla corda. La rottura di Esplosione avanza e Simio Luis che trova l'opposizione di Elettra Alchi di Noe. Nel frattempo è sfilata a condurre Ister DLC. Dieci e dodici squalificati, quindi anche Nebolmaker a tabellone. Trentuno il quarto iniziale, Ister DLC davanti, Elettra Alchi di Noe a largo. Elettra Alchi di Noe va ad impegnare severamente Ister DLC dopo 600 metri percorsi in 46 e 7. Sta sfilando a condurre la Lebb NRL affidata a Giuseppe Franco. Acquisisce anche margine sullo stesso Ister DLC affiancata da Esimio Luis, poi Eva degli Ulivi ed Emaraget. Primo giro in 1 e 2. Elettra Alchi di Noe e Simio Luis. Nelle prime due posizioni in calo Ister DLC avvicinato da Emaraget. chilometri in 1.17 e mezzo, Elettra Alchi in vantaggio, filata da Esimio Luis ed Emaraget che si ingamba e va a caccia dei primi due. Tre quarti di miglio ultimati in 1.32 e mezzo con 14.9 di ultima frazione. Elettra Alchi di Noe acquisisce una lunghezza e mezza di vantaggio ad Esimio Luis che non progredisce. Avvicinato da Emaraget. Ingresso in retta d'arrivo, Elettra Alchi di Noe in chiaro vantaggio. Emaraget in seconda posizione, la rottura di Esimio Luis. Elettra Alchi di Noe e Maraget, mentre per il terzo emerge l'Eboro Jet nei confronti di Edelweissdor. media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1.16 e 4 per la portacolori della Maiors dalle Bennerle Punta degli Ulivi. Vincenzo Castiglian è l'allenatore e Giuseppe Franco. Ne è stato un interprete pressoché perfetto. Grazie. 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 Grazie.